carta prepagata per minorenni finanza management e crescita personale se questi argomenti ti interessano lascia un like iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video voglio parlarti di un argomento speciale anche per te che ancora non hai compiuto 18 anni quindi se sei alla ricerca di una carta prepagata e ancora non hai compiuto 18 anni se è capitato sul video giusto oggi voglio spiegarti in tre parole come puoi richiedere una carta prepagata direttamente online la carta che ti presento oggi si richiede online da soli 12 anni carta emessa da un circuito bancario molto importante che offre un'ottima stabilità qua sotto in descrizione ti lascio il mio link per richiederla e per ottenere un bonus di benvenuto questa particolare carta prepagata ti offre l'opportunità di ricaricarla in tanti modi il primo modo per ricaricare questa carta e attraverso un bonifico per ricaricarla e attraverso un'altra carta il terzo modo per ricaricarla e attraverso i contanti allo sportello a suo favore i prelievi sono gratuiti in qualsiasi sportello bancario quanto concerne i costi la carta base è completamente gratuita ovvio che le carte superiori dello stesso circuito offrono dei vantaggi superiori mio consiglio è quello di prendere la carta base e poi renderti conto solo in un secondo momento se hai la necessità di fare un upgrade diamo adesso per che cosa può esserti utile una carta del genere io che se ancora non hai compiuto 18 anni non stai lavorando quindi gli unici soldi che percepisci sono quelli che magari i tuoi genitori ti trasferiscono quindi puoi usare questa carta per iniziare ad accumulare un po di risparmi altrimenti se sei tra quelli che amano spendere puoi usare questa carta per i tuoi acquisti gli acquisti possono essere fatti sia online che considera che questa carta prepagata offre i classici 16 numeri del fan presenti sul fronte della carta vuol dire che la puoi usare per tutti i tuoi acquisti online in completa sicurezza altra nota a favore di questa carta è l'area personale e l'applicazione per accedere al conto oggi tutti gli strumenti finanziari si gestiscono direttamente da smartphone e questa carta prepagata è una di quelle ma se come me ami l'home banking ricordati che questa carta ti offre anche questa opportunità non sempre questa è una cosa scontata perché la maggior parte delle carte prepagate specialmente quelle gratuite non offrono di questo vantaggio bene questi erano un po tutti i consigli che volevo offrirti per avere una carta prepagata del tutto gratuita quindi non perdere tempo qua sotto in descrizione c'è il link per richiedere la carta hai ancora qualche giorno prima di partire per le vacanze quindi richiedila subito e ottime opportunità non durano mai per sempre bene queste erano un po tutte le informazioni che volevo offrirti detto questo io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video il nuovo l'invito che ho fatto all'inizio se video come questi ti interessano allora iscriviti al canale e resta sintonizzato per i prossimi video ulteriormente approfondire chi sono e che cosa faccio vai su www.ciromuto.com alla pagina chi sono con questo è davvero tutto io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video ciao iscriviti al canale